Senatore Gibino, in questo momento c'è un grande affare al Governo nazionale, ci sono tante discussioni con Bersani, Bersani che incontra i leader politici e la proposta di Berlusconi lavorare insieme con Alfano Vice. Bersani al momento pare abbia detto no perché mi fanno la guerra al mattino e poi gli abbraccio al pomeriggio e non può andare. Secondo lei come andrà a finire? Mi sembra che lui faccia la guerra all'Italia, non ha capito che le elezioni non le ha vinte, non ha la maggioranza al Senato e non riesce a comporre un Governo. Un passo indietro di Bersani subito sarebbe la soluzione per il Paese. Poi vediamo. Facendo un passo indietro Bersani quale sarebbe il quadro politico? Innanzitutto con un Bersani che fa un passo indietro si inizia a capire perfettamente che l'Italia è ripartita in tre parti, il PD, il PDL e Grillo. Possiamo fare un Governo per fare le riforme che servono adesso, servono adesso agli elettori, servono adesso alle imprese e servono adesso per la crescita del Paese. Non possiamo più perdere tempo. La saggezza del Capo dello Stato in queste ore porterà sicuramente a trovare una persona che possa essere condivisa e che possa portare avanti questo progetto. Grande subuglio anche a Catania in questo senso. Fino a ieri pomeriggio il centrodestra si è incontrato per capire se poter presentare un candidato sindaco unico, se sostenere il sindaco uscente Stancanelli che già si è proposto o se trovare un'altra persona che possa identificare tutto il centrodestra. Come è andata a finire la riunione? La nota positiva di questa riunione è stata rilanciare su un'unità di tutto il centrodestra. Il centrodestra unito vince, lo dimostra ovunque e gli elettori hanno e ci danno una percezione e una necessità di stare uniti. Diventa a questo punto un valore, oltre che una forza che può portare a vincere le amministrative. Ieri tutti i leader in rappresentanza dei vari partiti hanno rilanciato su questa proposta. A questo punto sarà più facile trovare i candidati, Catania ma anche in tutti i comuni dove si andrà a votare in provincia di Catania, scegliendo i migliori candidati e rimanendo tutti uniti. Su Stancanelli che cosa, tra l'altro ieri ha anche partecipato, non per tutto l'incontro, per buona parte. Su Stancanelli che cosa avete detto, che cosa è emerso, potreste sostenerlo o no? Stancanelli ieri ha partecipato non come sindaco ma come responsabile del suo partito, dei Fratelli d'Italia. Quindi ha partecipato a una parte dell'incontro proprio nel momento in cui si iniziava a ragionare in questi termini. Certo, in qualche misura era interessato da sindaco uscente. Ma ripeto, il valore di stare uniti può superare anche i personalismi o le necessità di riconferme dei sindaci. Il fatto di essere un sindaco uscente è una nota importante sul tavolo, ma non è il tema di ieri pomeriggio. Senta, è vero che sono emersi anche altri nomi come quello di Ida Nicotra, che si era fatto peraltro in passato, di Nuccio Condorelli e addirittura di Gaetano Tafuri, che è stato assessore e che ora si occupa dell'AST. Sì, è vero, sono stati trattati anche questi nomi in un pur parlet. Questo per evidenziare che il centrodestra ha una rossa di nomi, non ha solo questo. Non abbiamo citato ancora quello di Pogliese oggi, visto che è stato citato nelle settimane precedenti. So che lui è relativamente restio, nel senso che il suo ruolo di vicepresidente all'ARS lo gratifica non poco. Però in questo momento non credo che i percorsi personali o il soddisfacimento personale possa andare avanti rispetto a un ragionamento complessivo di salvezza delle amministrazioni, delle città e del destino dei popoli e dei catanesi. Alla fine siete rimasti che la decisione uscirà dopo Pasqua, quindi una breve pausa, anche perché le elezioni sono state spostate a giugno dal governo regionale. Non pensate che comunque perdere altro tempo possa danneggiare il centrodestra che ancora non ha un nome ufficiale? No, la frase ci rivediamo dopo Pasqua ovviamente consente a tutti noi di potersi raccordare con incontri bio o trilaterali al fine di poter smussare e trovare le soluzioni. Quindi ci siamo dati una settimana di tempo, ma nel frattempo investiamo mattina, pomeriggio e sera per trovare soluzioni politiche a favore della città e del nostro territorio.